Bene ragazzi, ritorniamo ai classici, dato che alla fine ce l'hanno pubblicato, ce l'hanno fatto avere questo libro. L'autografia l'abbiamo letta in vari video, il gesto Lorenzaccio, il terzo, prima di credito italiano, compare subito Nostra Signora. Perché ce l'aveva con i turchi, gli islamici, forse perché era una religione fondamentalista, e quindi comunque vicina agli estremi, a mio padre. Edizioni Sugar 66 Perché parlavo di rituale, ovviamente non rituale sufi o magari rituale, no, però si trova in casa sua, avvia il grammofono. C'è una serie di oggetti che lui sposta, poi non c'è nessuna flora, poi la bottiglia di Pernod, messa in un certo modo. Quindi prende un libro, prende un altro libro, orsa maggior rossa minore, sempre con degli oggetti che trova. Quindi una sorta di sospensione dell'incredulità per il lettore, anche per il personaggio, però più che altro basato anche sull'alcol. Il portacenere, il vino molto graduato, lo specchio, la mensola stile impero. Quindi c'è sicuramente tutto questo kitsch riconducibile ad annunzio, forse o meglio a Wismans, che appunto scrisse il citato des essenzies, cioè il controcorrente, che da qui appunto fu un comune influsso, tra anche di D'Annunzio, un predecessore anche di D'Annunzio. L'interlecutore era sempre ignorante, citava Marx a sproposito, quindi pare che ci sia solo lui nella stanza, quindi parla con se stesso. Il laboratorio, infine, come concetto lo disturbava. Bambini a tavola, bambini a tavola, quindi c'è proprio una estetica della contraddizione, quindi sembra quasi che sia un rituale, diciamo, organizzato, mentre in realtà c'è una levità, una sospensione della credulità, cioè una sospensione di qualunque verità, cioè di trovare la verità, come dicevano i Zen, senza trovarla, cioè una verità nell'illusione stessa, perché non esiste la non-illusione, ecco, e quindi in questo senso la verità è solo la sospensione del pensiero o dell'incredulità. E poi, insomma, comunque il personaggio è un attore, quindi parla dei dignitari di Lilliput, dei cilindri suoi da teatro, conosco il mio pubblico, quindi insomma parla da solo, e poi inizia tutta l'avventura che conosciamo, che magari si può leggere anche, che si può vedere anche nel film, e leggere se ci sono delle differenze, che io ho segnato nella mia famosa tesi, per esempio anche Rachele, tutti questi hanno poco spazio nel film, quindi ci sono comunque delle differenze. Poi c'è Credito Aliano Verdi, a bocca aperta, l'orecchio mancante, Vabbè, direi che per ora, diciamo, ovviamente la scrittura è anche a livello visivo diversa, cioè bene ha potuto scrivere come voleva, anche a livello grafico, anche a livello, per dire, anche può spezzare le frate, perché poi questi sono più che altro canovaci di teatro, ma con anche molti interventi di spiegazione attoriale. E poi c'è Su una falsa la Madonna e la voce di Merciso, ecco, va vero, anche Su una falsa non parla di vari aspetti anche della musica, ecco Giuseppe Di Stefano, ecco le sue attrici, è una sorta di autobiografia, lo sappiamo, Macbeth, Pentesire e la cosiddetta Fortuna Critica, in cui parlano Goffredo Fofi, per dire Cotroneo, ma anche grandi come Oreste del Buono, Giorgio Manganelli e Egno Flaiano. Di Giorgio Manganelli, sempre per qualche anche novità di contenuto, ma anche editoriale, è uscito da Crocetti, che sta editando delle belle poesie, le poesie complete, è interessante la quarta di copertina, brevissima, che dice semplicemente queste parole di Manganelli, questa, che è solo una parte di una delle sue poesie, non è una poesia intera, l'errore fu nascere sotto lo scorpione, o in opposizione di Peretti in Fausti, è ovvio, no? O forse l'errore fu nascere, nient'altro, ecco, quindi l'errore del nascere, certo in un momento storico, condizionato, ambientale, anche addirittura da influssi planetari, ma come dice Caramello, bene stesso proprio l'errore è stato nascere, semplicemente, non per pessimismo, proprio perché magari prima di nascere c'era tutta un'altra vita, dimensione, eccetera, eccetera, vabbè, sono tutte poesie tremende, come del resto ogni libro di Giorgio Manganelli, però raccrapriccianti, però c'è anche un libro di Manganelli un po' sconosciuto, che è veramente da ricordare, in cui parla di sé come re, vabbè, tutti conoscono la ilaro tragedia di Manganelli, ma un grande poema, letteratura come menzogna, gli idee ulteriori, tutto errore, esperimento con l'India, vabbè, io, per dire anche il suo, soprattutto di Manganelli, io ho amato i diari di viaggio, devo dire la verità, quindi questa e quello anche sull'Oriente, ecco, principalmente sono questi quelli che ho preferito, poi anche quelli un po' più su, per dire lo stemma, però sono un po' inquietanti e anche difficili, comunque, però ce n'è uno che penso si intitoli, non so come si intitola, però è un libro sicuramente con la copertina gialla, e poco conosciuto, di Giorgio Manganelli, che parla principalmente di lui stesso, che si presenta al suo editore come re, proprio parla all'editore Adelphi, dicendo gli, voi mi pubblicate come un mecenate, ma sono io che, insomma, ho il sopravvento su di voi, che siete solo un piccolo editore storico, fantastorico, e invece io posso scrivere ciò che voglio, anche se il mio editore fosse un editore, diciamo, sbagliato e fallace, ciò non pregiudicherebbe ciò che scrivo, quindi è un po' anche quello che disse CB, a proposito dei giornali, io posso scrivere avvalendomi di un certo spazio, per esempio anche YouTube, ciò non significa che io debba provare quello spazio, o non posso esprimermi anche a detrimento, o malgrado, di quello stesso spazio che qualcuno ha dato comunque il denaro, o l'opportunità di mettere a posto, mettere su. Ora vorrei ricordarmi il titolo di quel libro, ma non me lo ricordo. Grazie.